Casa di paglia prefabbricata Ciao, io sono Sara e questo è lo spazio di racconto di Terra e Paglia. Continuiamo con la serie dei video tratti dalle nostre conversazioni sulla biodilizia e in questo ti proponiamo una pillola in cui iniziamo ad affrontare il tema delle case prefabbricate. Ad oggi a noi non è ancora successo di lavorare in cantieri in cui appunto si usano dei moduli prefabbricati in legno e paglia per costruire le pareti della casa. Abbiamo voluto approfondire questo tema però con chi invece questo lo fa di lavoro e quindi produce pannelli in legno e paglia che poi diventano i muri di casa. Nello specifico nella pillola che ti proponiamo parliamo con Carlo Bardelli di Novello Case che ci racconta chi è Novello Case e da dove arriva il legno che utilizzano. Ben trovate e ben trovati per una nuova puntata delle conversazioni sulla biodilizia in questa seconda stagione come ormai sapete parliamo di case di paglia e finalmente in questa puntata affrontiamo il grande tema della casa di paglia prefabbricata. Una novità di questi ultimi anni cioè quando noi abbiamo iniziato più di dici anni fa era fantascienza quindi siamo felicissimi invece di fare questa puntata. Per l'occasione abbiamo come ospite Carlo di Novello Case. Ciao Carlo. Ciao e buongiorno a tutti. Novello Case è una realtà industriale che fa parte di un comparto di lavorazione del legno grezzo che si è sviluppato attraverso tre generazioni. La casa madre si chiama Novello SRL. è stata fondata nel 1956 come falegnameria che poi si è specializzata in un comparto tecnico molto specifico quello della produzione di imballaggi industriali cioè la fabbricazione di contenitori in legno destinati a trasportare melci molto grandi, pesanti, pericolose, problematiche, dannatamente costose. Ci si chiederà come si passa da questo comparto qui agli altri comparti. In realtà è una falegnameria industriale dotata di una struttura tecnica ingegneristica molto forte e progettare un imballaggio per spostare una pressa da 70 tonnellate non è molto diverso che progettare una casa e farla stare in piedi. Anzi probabilmente i problemi sono pure superiori perché la casa l'appoggi e sta ferma la pressa la devi pure spostare da un camion a un container a una nave di nuovo un camion. Quindi noi siamo specialisti della lavorazione del legno grezzo non siamo capaci di fare i mobili se ce lo chiedono ma siamo sicuramente capaci di creare degli edifici farli stare in piedi o delle componenti per gli edifici. Attualmente la struttura produttiva è in un capannone tutto di legno di 18.000 metri quadrati. Siamo una settantina di persone che lavorano dentro. Puntiamo anche a una crescita abbastanza forte nei prossimi anni perché più o meno tutti i comparti su cui lavoriamo in questo momento stanno funzionando bene. Allora la domanda stimolante mi è venuta al volo. Quali tipi di legni lavorate e da dove vengono? Prima di affrontare la questione delle case toccherà capire perché ogni tanto arriva la domandone anche a noi quando ci si pone soprattutto la questione delle case a un certo punto è come se immediatamente tutte le case che esistono nel mondo dovessero essere costruite con legno. Quando tu proponi una casa con materiali naturali a un certo punto sembra che tu dai una risposta universale alla costruzione delle case e subito ti viene posto il problema ma il legno finisce però se tutte le case fossero fatte. Noi di solito diciamo tante ne facciamo una, due, quelle che ci chiedono poi si tocca sostituirle tutte e metteremo le piante ai boschi ma insomma la provenienza del legno è una questione che ci chiedono sempre se posso. Allora la provenienza del legno purtroppo è tutta dall'estero. Non c'è una politica boschiva in Italia che consenta di trasformare realmente le nostre foreste in una unità produttiva che tra l'altro sarebbe a beneficio del territorio perché sapete benissimo voi che siete nel settore che il mantenimento dei boschi è una cosa completamente virtuosa cioè il legno se tagli gli alberi più vecchi quelli giovani crescono più in fretta, crescono meglio, producono più ossigeno. Gli alberi vecchi invece come tutti gli organismi viventi a un certo punto cominciano a invertire il loro ciclo virtuoso perché cominciano a produrre più CO2 che ossigeno ci danno più legno, il legno lo puoi lavorare alla fine se proprio serve lo puoi anche convertire in energia termica a bruciarlo e non inquini perché non fai altro che liberare la stessa quantità di CO2 che è stata intrappolata nelle fibre del legno. Tutte queste cose sembra che alla legislazione italiana non siano mai arrivate per cui siamo costretti ad importarlo. Tipi di legno, allora a seconda del comparto in cui dobbiamo utilizzare il prodotto quando andiamo ad esempio nelle case sono quasi tutte conifere quindi pino e abete sugli imballaggi industriali in legno sulle facciate si usano anche tipi di legno che vanno dall'ocumè alla vetulla. Poi ovviamente ci sono i derivati di legno dai compensati agli OSB. noi trattiamo sempre comunque materiale completamente atossico che non abbia rilasci quindi anche quando utilizziamo materiali incollati al massimo devono profumare di legno perché teniamo la salute dei nostri clienti sicuramente almeno tanto quanto teniamo la nostra visto che ci lavoriamo sopra virtualmente 8 ore in pratica 10-12 ore al giorno ecco.